Network marketing è attivo numero 4 Il potere del tuo network personale Affiliandoti a una società di network marketing hai l'opportunità di costruire la tua rete di persone che usano i prodotti o i servizi e marciano tutte, ognuna per i loro obiettivi, nella stessa direzione L'usare il prodotto è solo un mezzo il fine è costruire la rete per soddisfare i propri bisogni Tutto ciò che vuoi dalla vita lo puoi ottenere tramite il network marketing perché è un business svincolato dalla tua presenza Chi ti informa sull'opportunità di network marketing ti sta dando un enorme potere Svincolare i tuoi guadagni dal tempo e iniziare ad avvicinare i tuoi soldi alla costruzione di una rete Sono totalmente fuori strada quelle persone che... e iniziare ad avvicinare i tuoi guadagni dal tempo e iniziare ad avvicinare i tuoi guadagni dal tempo